Vi ricordate Otto Pseil, la cavalla che facemmo sequestrare a ottobre del 2019 in condizioni pietose, magra, scheletrica e con una profonda ferita alla gamba sinistra? Lei adesso sta molto meglio, anzi è in perfetta forma, grazie alle cure dei veterinari e grazie alle cure che abbiamo prestato al centro di recupero di IHP. Nel frattempo abbiamo fatto qualche indagine sul suo passato e guardate che cosa abbiamo scoperto. Otto Pseil proviene dal mondo del reining, uno dei tanti pseudo sport equestri in cui vengono usati i cavalli che, già va a ricordarlo, per loro scelta non farebbero né sport né competizioni di alcun genere. Nel reining il cavallo viene addestrato a fare dei movimenti chiamati pattern. Le gare consistono nel fare esibire individualmente il binomio cavallo-cavaliere con una giuria che attribuisce punti per come viene eseguito ciascun pattern. Il cavallo deve fare dei cerchi, dei cambi di galoppo destra-sinistra, dei giri di 360 gradi su se stesso, brevi rettilinei al galoppo e infine lo sliding stop, la frenata eseguita facendo scivolare le gambe posteriori sotto di sé. Quanto pensate che si diverta un cavallo a fare queste cose peraltro in maniera ossessiva? Ma questo è un altro discorso. Torniamo alla storia di Otto Pseil. Dall'albero genealogico abbiamo fatto alcune scoperte. Abbiamo scoperto che è figlia e nipote di due cavalli considerati dei campioni nel mondo del reining. I am Topsail Cody e Topsail Cody. Nata nell'allevamento di Fabrizio Magni in Toscana, per molti anni viene usata nelle competizioni di reining e anche come fattrice, cioè per far nascere dei puledri da destinare anch'essi a le gare, come il destino delle femmine considerate di alta genealogia. Nel 2012 viene venduta un altro allevamento, la FL Horse Performance, sempre in Toscana, dove continua a fare la fattrice e nel frattempo viene ancora usata per PIP con le gare regionali destinate ai bambini. Ma come troppo spesso avviene nel mondo degli sport equestri, Otto Pseil a un certo punto diventa troppo anziana anche per fare la fattrice e per far divertire i bambini. E indovinate dove finisce? Nelle mani di un commerciante, che prova a piazzarla a una signora che cercava una cavalla tranquilla per fare delle passeggiate. Ma le cose non vanno bene, Otto Pseil ha problemi alla mandibola, problemi ai piedi, così ritorna il commerciante, che di lì a poco la consegna all'ultimo proprietario della catena, quello che la stava facendo morire di fame e di stenti. Al momento della nostra scoperta la cavalla era ridotta a uno scheletro, aveva una profonda ferita lacero contusa alla gamba, già infetta, e che l'avrebbe presto portata a morte tra atroci sofferenze. A proposito del commerciante, ve lo ricordate? Lo avevamo incontrato un paio di anni fa, quando durante un servizio delle Iene, in cui cercavamo una cavalla di cui si erano perse le tracce dopo la vendita da parte della proprietaria, scoprimmo che questa cavalla partì dalla Toscana per andare e finire in Sicilia, da lui trasportata, prima in un fantomatico agriturismo e poi in un macello clandestino. La cavalla ieri, Robi, Federica te l'ha data? Sì. Che cosa hai detto a Federica? Che l'avresti data? A chi? Dove è andata la cavalla? A Palermo. Federica, continua a dire che tu gli hai detto, non ti preoccupare, rimarrà in un agriturismo in Toscana. Se io gli ho detto questo, non mi ricordo. Per colpa tua? Sì. Il cavallo si trova là? Sì. Stava per essere macellato, ok, e adesso per riportarlo a casa ci bisogna spendere duemila euro. Io se ho da portarla a casa dov'è il problema? Ci sono sempre in Sicilia. Oggi Otto Pseil è in gran forma, ha ripreso tutti i suoi chili e la ferita è completamente guarita, grazie alle cure prestate nel nostro centro di recupero. Ora, se questa vi sembra una storia a sé, sappiate che invece di storie come quella di Otto Pseil ce ne sono tantissime, perché laddove vi sia un uso nelle corse agonistiche di cavalli è come un'industria. I cavalli valgono finché sono performanti, oppure se sono di alta genealogia possono produrre degli altri cavalli che diventeranno performanti. altrimenti, salvo poche eccezioni di proprietari che se ne prendono cura, perché sono responsabili e quindi se ne prendono cura anche nella vecchiaia, prendono delle strade perverse che li portano al macello o in un dimenticatoio, come è successo a Otto Pseil appunto. Ecco perché diciamo sempre di non assistere e di non sostenere gli sport equestri, l'ippica e qualsiasi altra competizione dove i cavalli sono protagonisti forzati di uno sport che loro per scelta non farebbero mai. Peraltro non ci sembra normale che un sistema basato sul loro utilizzo per sport, divertimento o interessi economici non abbia poi dei programmi per mantenerli e curarli durante la loro vecchiaia, visto tra l'altro che i cavalli sono animali che possono essere anche molto longevi. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube e non dimenticate che IHP è un'associazione indipendente che fa tutto questo solo grazie alle donazioni e al volontariato. Sul nostro sito www.horseprotection.it trovate tutte le informazioni per sostenerci e per collaborare con noi.